Un capodanno che poteva finire in tragedia per un undicenne vicentino che stava festeggiando l'arrivo del nuovo anno con genitori, zii e nonni a Loreggia. Pochi minuti prima della mezzanotte il piccolo insieme ai parenti stava sparando alcuni petardi quando uno gli è esploso tra le mani. Il bimbo avrebbe sfregato il petardo e poi non avrebbe fatto in tempo a lanciarlo prima che prendesse fuoco. Il bambino è stato portato subito in ospedale a Campo San Piero. Dopo alcune ore di ricovero l'undicenne è stato dimesso con numerosi punti di sutura a due dita della mano. Nell'incidente sono state informate subito le forze di polizia che stanno cercando di ricostruire eventuali irresponsabilità degli adulti che erano con il bambino.